Alle 11 in tribunale esploderà una bomba. Ha pronunciato solamente queste parole al telefono la voce di uomo che poco dopo le 10 ha chiamato la centrale operativa della questura di Treviso annunciando nel palazzo di giustizia di Via Verdi un ordigno. All'ingresso in un paio di minuti si è presentata una volante della polizia, gli agenti hanno comunicato l'ordine di immediato sgombero dell'edificio in cui come ogni martedì le aule sia del penale che del civile erano affollate per le udienze in calendario. Tra dipendenti, magistrati, avvocati, privati cittadini sono state evacuate oltre 200 persone con tutti i disagi legati alla sospensione dell'attività giudiziaria e all'uscita all'aperto per un tempo indefinito sotto la pioggia battente. Sul posto nel frattempo sono arrivati anche carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco e fatti intervenire gli artificieri della polizia di stato da Venezia. Nell'arco di circa due ore l'intero edificio è stato bonificato e l'allarme è rientrato. Non sono stati rinvenuti né borse né pacchi sospetti la cui introduzione nel palazzo sarebbe comunque resa difficile dalla presenza all'ingresso del metal detector, un ampio dispiegamento di forze che ha consentito alle 12.30 di far rientrare i tanti che hanno pazientemente atteso all'esterno. Avevamo circa tre squadre intervenute sul posto, più l'apparato funzionario per la gestione della sicurezza del soccorso eventuale. Noi siamo sempre in supporto. Le indagini proseguiranno ora da parte della questura per cercare di individuare l'autore della chiamata, un mitomane o, come già accaduto in passato, qualcuno che voleva far saltare un'udienza fissata per la mattinata.